77 giorni dopo il Pineto torna a vincere al Mariani Pavone, il 3 dicembre a soccombere fu il Sestri Levante, questa volta a cadere in Abruzzo è stato l'Olbia, successo di misura che conferma l'ottimo momento della squadra di Mr. Beni, tre risultati utili, un pari e due vittorie consecutive. 4-3-3 per il Pineto con difesa inedita per via delle assenze di ingrosso Marafini ed Evangelisti, insieme a De Santis ci sono Baggi, Villa e Borsoi, Lombardi e Manu a centrocampo e il trio offensivo Gambale, Volpicelli, Giambè. L'azione decisiva del match al settimo, la punizione di Volpicelli viene deviata nella propria porta da Bianchimano, autorete dell'attaccante degli Isolani. Pineto che potrebbe raddoppiare all'undicesimo ma il colpo di testa di Gambale termina alto. Si fa vedere l'Olbia al 14esimo con un'azione personale di Cavuoti che si perde sul fondo. Decisivi due portieri in un minuto. Al 21esimo Rinaldi è reattivo e stoppa l'iniziativa di Baggi, stessa sorte dall'altra parte con Tonti che in uscita bassa ferma Bianchimano. Si arriva ai minuti finali del primo tempo, 42esimo da Ragazzo a De Sena con palla che termina sul fondo di poco. Ed è il Pineto l'ultima emozione della prima frazione, il 43esimo Manu dal limite, destro che termina alto di poco. Dopo l'intervallo sono i Sardi a provarci di più. Al settimo colpo di testa alto di Bellodi, mentre al 26esimo da Catania a Nanni c'è una deviazione a salvare Tonti ed i suoi. Sull'angolo successivo ci prova ancora Bellodi, parla fuori. L'Olbia ci prova ma il Pineto riesce a controllare fino alla fine ed al tripice fischio del direttore di gara esulta per una vittoria davvero preziosa che allontana ulteriormente gli Adriatici dalla zona calda. Grazie.